Qualcuno ha suonato? Chi? Chi? Chi è che ha suonato? Chi è Auri? Non lo so Beccata! Ma eh scusa, scusa, cosa stai facendo? Gigi! Ciao a tutti ragazzi! Ciao mamma Claudia e posso togliere la mascherina? Ciao Gigi! Hai sbagliato posto però, questa non è la scuola, questa è casa Cavaleri Family, ok? Eh sì, ho capito, ho capito! Questa non è la maestra, è la mamma! Eh posso togliere la mascherina? Certo Gigi, siamo a casa! Toglina Gigi! Eh va bene! Ah ciao a tutti ragazzi! Avete mangiato tante caramelle per Natale e anche per la bifana? Scrivetelo giù nei commenti e fatemelo sapere! Eh Gigi, quasi quasi ti preferivo con la mascherina, sinceramente, un po' coperto! Io direi che tu di caramelle ne hai mangiate fin troppe, guarda come sei combinato con quella faccia! Gigi, cos'hai ricevuto per Natale? Eh, allora, per Natale ho ricevuto, non lo so perché, Babbo Natale mi ha portato lo smalto! Cosa? Lo smalto? Eh sì, mamma Claudia mi ha portato lo smalto, volete vedere? E voi a casa ci credete? Guardate, e allora, e tre, e due, e uno, e vedete lo smalto? È vero, mi ha regalato lo smalto, uno fucsia e uno rosso, e me lo sono messo! No, allora Gigi, sicuramente Babbo Natale si sarà confuso, però devo dire la verità che hai fatto bene, non ti sei arreso e hai utilizzato il regalo che ti ha fatto Babbo Natale lo stesso, perché quello è lo spirito del Natale! Accontentarsi, ok? E voi, che cosa ne pensate di questo smalto? È stato bravo Gigi a metterselo? Scrivetelo giù nei commenti! Quale vi piace, la mano destra o la mano sinistra? Ma secondo me si toglie, Gigi! Assolutamente no, è proprio quello originale, ma voi che cosa state facendo qui a casa, mamma? Gigi, noi abbiamo preparato lo zaino per ritornare a scuola dopo le feste di Natale, ormai ci siamo e bisogna rientrare! Tu sei pronto, ti sei organizzato con i compiti, i libri, hai fatto tutto? E voi a casa avete fatto tutti i compiti per le vacanze? Scrivetelo giù nei commenti! Eh, sì, io li ho fatti i compiti per le vacanze, buonissimi! Basta, basta con questo cioccolato, guardati! Basta! Ma no, Auri, eh, mi fanno male tutti questi cioccolatini! Non possono mangiarla, allora! Non glieli do, mamma! Oh, meno male, le mie bimbe sono proprio brave! Oh, mi fido di Gigi, tanto so che le mie bimbe non prendono il cioccolato, perché troppo il cioccolato fa male, vero bimbe? Sì, sì, certo, certo, mamma, mamma! Certo, certo! Eh, brave, brave le mie bimbe! Eh, Gigi, questo è il tuo zainetto, non è un po' piccolo? Cosa c'è dentro? È anche bucato! Ah, sapete che ho invindato un nuovo TikTok, mamma Claudia? Che TikTok è, Gigi? Così fa... Ma dai, io portare la mia palla! Eh, la palla per tornare a scuola, Gigi, dai! Ma che è da Gigi? Eh, Gigi, ma a scuola non si gioca a calcio, Gigi, no, 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 stai partendo con il piede sbagliato, Gigi, e poi non è che la devi nascondere là, nella tua pancia, scusa, eh! Eh, no, 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 non gela più la palla, questa è la mia pancia e basta! Ascolta, Gigi, va bene, va bene, io lo so che tu sei un po' burlone, sei simpatico, anche un po' monello, però, eh, qua, il ritorno a scuola è una cosa importante, quindi, se tu non hai organizzato i tuoi libri, i tuoi compiti, è bene che tu lo faccia, ora bisogna tornare a scuola! Va bene, dai, mi metto qui sul divano a mangiare la Nutella! Vabbè, vabbè, Gigi, con te mi arrendo, ok? Ci penserà la tua mamma, eh, vabbè, no, grazie, no, 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 no! Eh, va bene, va bene, andate, andate pure, dai, non vi disturberò più, va bene? Dai, bimbi, andiamo, finiamo di fare le nostre cose, Gigi, fai il bravo, per piacere, questa è casa nostra, non la distruggere, ok? A dopo! Ragazzi, ma vi sembra giusto, mi hanno lasciato qui da tolo, adesso mi metto qui e io mangio la mia Nutella! Aspetta, ragazzi, mi è venuta un'idea, geniale! Adesso, sapete cosa faccio? Mi rubo gli zaini, in modo tale che domani non potrò andare a scuola e gli rovino i piani alla mamma Claudia! Però, ragazzi, Gigi, lo sapete che è dispettoso, quindi gli devo fare credere che io sto scherzando con loro e quindi, guardate cosa faccio! Prendo la Nutella, per la spama tutta qui, vabbè, così, vai, vabbè, evviva! Buonissima! Adesso andiamo di là e loro rideranno, prendo gli zaini e me ne scappo! Venite con me, ragazzi! Mamma, ho chiuso, adesso li mettiamo davanti alla porta! Brava, Auri, gli zaini sono pronti, anche il tuo è pronto, Emi? Wow! Forza, forza, forza! Ritorniamo a scuola! Ma dov'è Gigi, mamma? Eeeh, non lo so... Forza, è sul divano! Ma non c'è sul divano, guarda! Boh, ragazzi, che fine avrà fatto? Era qui tutto solo, magari il poverino si è offeso! Spero di no, perché è vero che è monellino, però è sempre un bimbo! No, ma non c'è! Non lo so che fine ha fatto, Auri, magari è andato anche a casa! Ragazzi, sono lì, zaini, guardate! Adesso li prendo e li rubo! Speriamo che non si accorgono di me! Mi devo mettere così, guardate, guardate, guardate! Ma come sarà? Ma è strano! Eccoli qua! Sono qua! E dai, le riprendiamo! Non lo so! Ecco, è lì! Quando tornare, gliela aiutare! Ehi, ciao a tutti ragazzi! Aiuto ragazzi, mi vogliono prendere! Sono circondato! Sono circondato! Non zaini per la scuola! Gigi, è bene! Adesso, adesso! Mamma mia, che zotto! Che zotto! Gigi, ti sei fatto male! Mamma mia, Gigi! Muoi! Oh, Gigi! Mamma mia! Mamma mia, che è successo? Che è successo? Eh, Gigi, Gigi! Eh, che è successo? Oddio, Gigi! Hai sbattuto fortissimo! Ti sei fatto male! I tuoi denti! I tuoi denti! Gigi, hai perso... Eh, che c'è? I denti, Gigi, i denti! Eh, dai c'hanno gli denti! Eh, appunto! Hai perso qualche dente! Ti sei sbattuto contro la parete! Gigi, devi stare attento! Ma cosa? Mamma Claudia! Io volevo fare un dispetto a voi! E poi, alla fine, hai visto com'è andata a finire? Mi sono ripaccato tutti i denti! Gigi, Gigi, tu sei sempre il solito! Vuoi fare i dispetti a tutti! Ma invece devi capire che la scuola è bella! Ed è importante andare a scuola! Hai capito? Eh sì! Infatti, ho anche le consonanti! E quali sono? A, B, C, D, F, G, A, M, L, I, M, G, L Vabbè, vabbè, niente, Gigi! Avrai modo di imparare! 5 per 5, 47! Basta, basta, Gigi! Va bene! Noi ti vogliamo bene lo stesso così come sei! Ok? Però cerca di fare un po' di più il bravo! Va bene, Gigi? Ragazzi! Se anche questo nuovo video vi è piaciuto... Iscrivetevi al canale Cavaleri Family senza perdere i denti! No, per carità! Ma attivate anche la campanella, eh! Iscrivetevi anche ai nostri social, Instagram e TikTok! Eh, bravo! Seguiteci anche sul nostro secondo canale! Cavaleri Sisters! Il canale di Aurora e Noemi! Però ragazzi, scusate, io mi allontano un attimino dalla faccia di Gigi perché è fincicosissima! Ragazzi, ma ricordatevi! Noi siamo i Cavaleri Family! Prendiamo! Prendiamo! Prendogli i zaini io! Ciao! Dì addio allo tuo zaino, Aurora! No! Ciao! No! Ciao! Ciao! Al prossimo video! Aspetta, aspetta! Dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavaleri Family! Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavaleri Family! Ci vediamo! Clicca qui per iscriviti al canale Cavaleri Family! 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 Grazie.